Sono vicino da sindaco al presidio che si sta svolgendo al Pascale per il rischio concreto di chiusura del reparto di radioterapia, quindi vicino soprattutto alle donne. Io credo che la sanità così come sta andando deve essere corretta, non è assolutamente giusto che delle persone debbano fare alcuni accertamenti al Pascale e altri spostati in altri ospedali come la Scalesi o in cliniche private convenzionate. La sanità è di tutti, la sanità deve essere un diritto garantito a tutti, in particolare una città come quella di Napoli dove si registrano sofferenze gravi in termini tumorali ed anche per questo abbiamo deciso, visto che non lo fanno le istituzioni che dovrebbero farlo, di istituire presso il Comune di Napoli il registro dei tumori.